L'altro giorno mentre giravo per le strade di Napoli Ho incontrato due baldi giovanotti I quali ho deciso di fare due domande A voi l'intervista Come diciamo? Wubi Gaetan Quanti anni hai? Uno Venti Venti Che mestiere fai? Pane e tire Come? Aspetta I pan e tire Ricottaro 24x24 E? E pan e tire, assistente Sposato? No Con quanti figli? Due No Con quanti figli? Antonio Vivolo e Umberto Grazzi Finanzato? Sì Con quanti donne? Uno Sì Con quanti donne? Una Se l'IP ti convocasse in nazionale? Ci andresti? No Perché? Perché ne puoi dipigliare poi l'uno a porto a camera No Perché? E non mi è in merda, ci hai fatto vedere di mondiale Da grande? Che mestiere vorresti fare? Ingegnere Ingegnere che? Elettrico Ferramenta Ci hai pensato che la ferramenta non è mestiere ma un negozio? Sì Meglio un giorno dalle uni o cento da pecora? Un giorno dalle uni mi faccio tutte quelle che saranno a pecora Cento da pecora Così non mi faccio un culo ogni tanto O mi tengo l'urdo In media quante volte vai in bagno? Due E come mai? Non si può dire Sei di Napoli? Sì Italiano? No Sei italiano? No Napoletano? No E che sei? Ucraino 26 anni Fai un saluto a tutti gli amici che guarderanno questo video Ciao ragazzi e commentate Qui sotto Ciao Dovranno commentare? Sì Qui sotto Ho deciso di Interrogare? No La lampada si è staccata O mio Dio Da grande che mi Da grande che mi si Da grande Da grande che mi dovresti fare Meglio un giorno dalle uni che tutti quelli che stanno a pecora Un giorno Quante scorreggia al giorno fai? Sei di Napoli? Sì Italiano? Sì E vuoi dire no? Oh mannaggia Fai un saluto Ciao E saluto a tutti gli amici che ti saranno guardando in questo video Ciao ragazzi Ci vediamo la settimana prossima E anche la prossima puttana 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 Grazie a tutti.